rossa rossa quanto è la rossa quant'è la rossa lunga e ma dico quanto è lunga quindi fa solo l'anello scende però per il ristoro andate di là poi se fate la rossa tornate in via ma perché non dobbiamo farla rossa ma dopo quando va bene grazie ciao ciao bravo grazie grazie